E' successo di tutto nella terza puntata di Ora o Mai più due. Sura 1 è andata in scena la solita serata di grande musica e di tanto, tantissimo intrattenimento. Merito della simpatia e del caratterino dei giurati, ma anche del padrone di casa Madden's, ironico e fluido nel condurre una trasmissione lunga più di tre ore. Andiamo subito a riepilogare quanto accaduto nella puntata di ieri sera, con una prima manche che ha visto i concorrenti esibirsi assieme ai manestri. Dammalisa Minetti e Toto Chebutanio hanno cantato solo noi, Donatella Milani e Donatella Rittore la mette, Barbara Colaiorietta Berti tu sei quello, Silvia Salemi e Marcella Bella nessuno mai, Paolo Valessi e Ornella Vanoni una ragione di più, Davide Demerina se fastoli ali io camminerò, Gessu Camorlacchi e Red Canziano Uomini Sollie Michele Pecora e i ricchi e poveri Mamma Maria. Sempre nel corso della prima fase sono arrivate anche le scuse da parte della giuria nei confronti dell'ospite della scorsa puntata, Amedeo Minghi, preso di mira da alcuni coach. Ora o mai più due, i duetti con gli ospiti.La seconda manche della terza puntata, invece, è stata dedicata ai duetti con gli ospiti. I concorrenti si sono esibiti assieme a volti noti del mondo della musica. Così Davide Demerina si è tornato sul palco assieme ad Amedeo Minghi per 1950. Barbara Cola, affiancata da Ivana Spagna, ha cantato Gente come noi, mentre Jessica Morlacchi ha emozionato con Marco Masini e il pezzo Ti innamorerai. Paolo Vallesi è salito sul palco con Enrico Ruggeri per cantare Il mare d'inverno, mentre Silvia Salemi e Michele Zarrillo hanno fatto vibrare la sala con la notte dei pensieri. Donatella Milani non è riuscita a risalire la classifica con mistero, nonostante il sostegno di un grande come Ruggeri. Infine Michele Pecora insieme a Masini si è esibito con l'uomo volante e Alnelisa Minetti super con il cerchio della vita assieme alla Spagna. . Terza puntata ora o mai più due. Non sono mancate le critiche. Durante la terza puntata di ora o mai più non sono mancate le critiche e le scintille tra i giurati e i concorrenti. Marcella Bella addirittura ha avanzato qualche perplessità da Marco Masini per aver proposto il brano Ti innamorerai alla Morlacchi, dicendogli tra le altre cose di non aver capito appieno il testo. Alla fine delle varie esibizioni i maestri si sono così espressi, dall'ottavo al primo posto in classifica, Donatella Milani, 1. Michele Pecora, 2 punti, Barbara Cola, Davide De Merinas, Annalisa Minetti, 5 punti, Paolo Vallesi, 6 punti, Silvia Salemi, 8 punti, 1. Jessica Morlacchi, 10 punti. Classifica che con le votazioni del pubblico a casa, attraverso il televoto, ha visto qualche lieve variazione. In cima Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Paolo Vallesi, 16 punti, quarto posto per Barbara Raccola, 10 punti, quinto per Davide De Merinas, 9 punti, sesta posizione per Annalisa Minetti, 7 punti, settimo Michele Pecora, 5 punti, l'ultima Donatella Milani, 2 punti. I primi tre classificati della terza puntata sono dunque Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Paolo Vallesi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.